adesso abbiamo un bel collegio di personaggi da chiamare con vocali allora adesso passiamo all'ultima parte di questa chiacchierata con un terzetto specialissimo abbiamo maico le mirko alessandro baronciani e lorenzo ceccotti ciao ciao michael ciao 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 a tutti allora mi fa morire questa cosa che tu non lo sai cate ma con alessandro e con anche a voi si è fermato michele che si scappola sì erano erano proprio lì esattamente ormai riconoscerò la gente per lo sfondo essenzialmente non per dove non per la loro faccia i loro vestiti michael cos'è successo alla barba cioè anche che si è girata la testa e ho notato allora di baronciani all'incontrario prima mi stavo dicendo che il primo segmento sicuramente l'ha seguito un sacco di gente perché le 21 se non stavano guardando la partita poi mi sono detto che il tema pop la presenza di michele kate che fa la conduzione con verve poteva andare bene a questo punto ragazzi kate la più giovane del di questo quinquetto quindi a voi posso dire che mi sento quando ero bambino capivo che era ora di andare a letto quando la signorina buonasera diceva e questa cosa vi aprirà una madeleine adesso va ora in onda protestantesimo a cura del dipartimento scuola educazione queste parole che mi erano completamente oscure all'epoca significavano è troppo tardi per te bambino non capisci più cosa stiamo dicendo vattene e quindi dobbiamo tenere assolutamente light questa sì di lorenzo no volevo solo dire che il marchio del dipartimento scuola educazione è uno dei più bei marchi mai progettati nel territorio italiano sapevo a dirlo perché proprio sapevo che avevi un argomento con la gioconda retinata dentro michele continua a non c'eravate prima refresh a tutto ok e non so al primo blocco ho detto qualcosa di strano su ciascuno e quindi ora voglio dare delle informazioni che non tutto il pubblico ha su di voi molto rapidamente vado in ordine crescente di compromettenza michael possiede una bellissima gatta che si chiama biscotta esattamente da quando lo frequentiamo più volte è stato pianificato il furto di biscotta ma siccome gli vogliamo bene non l'abbiamo mai messo in atto per dire della mamma di caterina in realtà non si dovrebbe dire ma lorenzo possiede una flangia di uno space shuttle sì che potrei anche mostrare in live bene che hai ricevuto sul set di monolith corretto in un'officina dove è stata creata la monolith che fisicamente ok alessandro se suo padre avesse avuto mano libera si chiamerebbe rupert baronciani ha vinto lui cioè ecco questo è un pezzo di titanio dove correva un tubo che portava l'aria all'interno del space shuttle che tu tieni nel portafoglio ovviamente sì nel challenge ecco questa cosa ora sappiamo come è tornato sulla terra quel pezzo visto che era nel challenge scusami una battutaccia cattivissima però una delle caratteristiche principali di che un po vi accomuna è che michael sembra parlare sempre con riluttanza quando viene interpellato pubblicamente e poi è uno di quelli che dicono le cose più solide interessanti quindi sei come i tuoi disegni cioè fingi di essere semplice sei pieno di contenuto invece lorenzo comincia a dire delle cose che dici deve essere ubriaco si sta inventando una roba parte con delle robe astrusissime e le riporta al al suo personale con cose del tipo non mi correggere in questo momento voglio proprio fare la sparata sì come la volta che mia nonna fece la scalata alla nivea è un aneddoto lorenzesco questo sì invece mi spiace ho questi tempi volevo farla alla lei bruce invece sembra veramente teatro dell'ottocento invece alessandro non è riluttante a parlare delle cose è in grado di parlare di qualunque argomento ma è come il frecciarossa lanciato a 100 chilometri all'ora ci mette 35 chilometri a frenare praticamente per cui arrestare alessandro è quasi impossibile ecco perché questo segmento non lo conduco da solo perché nonostante sia un notorio chiacchierone sarei sovrastato completamente dalla filosofia la multitematicità l'inarrestabilità dei nostri ospiti e quindi hai scelto una persona timida per per stare a parlare oltre al fatto che tu sei la criptonite di alessandro baronciani sei l'unica persona che riesce a ragionarci in maniera pacata sempre anche quando lui si infervora primo ma ti uso in realtà come il gatto con gli stivali di shrek cioè tu fai gli occhioni loro si fermano però siamo qui per parlare di disegno in realtà di approccio al disegno io ho una curiosità vai io volevo cioè avrei voluto che lo ognuno di loro descrivesse il modo di disegno degli altri due bello da chi partiamo michael e lorenzo disegna tutto però è capace di rubare la poetica altrui però quando poi lo finisce a disegnare è sempre una cosa sua una cosa è come se fosse una sorta di enciclopedia del disegno però mi guardano in occhio mi da fastidio no si chiama si chiama si chiama trasmigrazione attraverso satori una cosa impressionante soprattutto quando parte in anche quando mi mando i disegni in fase di sketch magari a volte un disegno mi colpisce di meno poi me lui mi diciamo che ne pensi perché insicuro il lorenzo e dico vai tranquillo che poi quando è finito diventa una cosa mostruosa non è una piageria effettivamente così è una sorta di radar proprio baronciani invece ha un disegno alla baronciani estremamente poco come si può definire il disegno di baronciani io una cosa che mi che mi devasta adesso sono soprattutto i cieli contrapposizione che c'è tra i personaggi eh davanti stai sbagliando con gipi eh ti sbagli con gipi no su quello guarda non lungi da me farti un complimento lo sai però i i paesaggi cieli sono una contrapposizione al modo di disegnare calavanti che è incantevole in certe storie mi ha colpito io adoro di più lo sfondo sempre che è narrativo che è grafico eh baronciani riesce a fare dei sfondi dei personaggi che sono eh forse i disegni sono il la parte mancante del dello sfondo sono il ritaglio la cosa l'assenza di sfondo a volte quasi coprono lo sfondo e ti viene voglia come quando vedi un bel paesaggio ti puoi scarsare che vorrei vedere il mare e il cielo che c'è dietro non lo dirò mai più in diretta però è così ormai l'hai detto in diretta vorrei chiedere a chi ci sta seguendo se può aver fatto la ripresa video di questa cosa così bella che poi me la no non c'è nessuno in realtà baronciani è nell'altra stanza e mi sta minacciando sì infatti sembra potrebbe essere l'altro lato no io ho avuto fatto una scelta di tutti hanno librerie e quadri appesi come sfondo io invece ho fatto nessuna libreria e quadri per terra però a Ilda ti vedo no a Ilda no è uscita a giocare no a Ildo il? hai il libro? sì sì chiedo che parlassi del mio cane sì poi questa qui è la versione quella eh della nombro vecchissima che per fortuna qualcuno l'ha tradotto in italiano se no non la capivo perché sapete noi io sono del 74 ma l'unico che sa del 74 che sa l'inglese qua è Morenz è del 78 ah ecco perché lo sa lui ha iniziato dalle medie noi che abbiamo iniziato dalle superiori ehm vabbè cosa si può dire Michael e Mirko io li ho sempre invidiato tantissimo e perché dagli scarabocchi alle prime autoproduzioni e che compravo alle alle quando si dove ci si vedeva come si chiamava quel posto pieno di gente tutta tutta simpatica le fiere? no il nonpavallo e io avevo la sua idea che che era già diventato era già un artista era già grande era già un fumettista famoso come Magnus e invece Lorenz mi ricordo che l'ho conosciuto lui aveva già l'iPhone con il con il map dentro il telefono ed eravamo a Lucca è stata una delle prime Lucca che facevo e lui sapeva dove sapete che è notoriamente famoso Luca per ci si perde per perdersi esatto e Lorenz sapeva dove era e questo sapere dove era secondo me si vede anche nei suoi disegni lui sa dove è adesso non è vero che hai dubbi lui quando disegna sa già dove deve andare e questa è una cosa spietata per tutti quelli come me che invece non sanno mai esattamente dove vogliono andare è vietato scrivere il commento andare a quel posto ok e quindi si è una cosa bellissima perché ha una progettazione cosa che si è vista tantissimo nella mostra che ha fatto due anni fa a Lucca che ha una progettazione perfetta per cui la matita è esattamente quello che tu vedrai nel definitivo e invece il definitivo di Michael è la matita quindi c'è una confusione di linee insieme che portano bene insomma sono contento mi batte forte il cuore Lorenzo? allora io in tempi non sospetti credo boh quattro anni fa una roba del genere e credo che avevi l'iPhone Alessandro probabilmente ancora sì perché poi mai più però dico Alessandro Barancioni secondo me è uno dei pochissimi disegnatori di fumetti italiani sicuramente della mia generazione che resterà cioè nel senso il disegno di Alessandro è inconfondibile è impareggiabile quindi francamente mi sembra che la cosa più importante da dire sul disegno di Alessandro è che Alessandro è un classico del fumetto italiano e questo è un fatto inoppugnabile a mio avviso è la cosa più importante da dire sul disegno di Alessandro io credo per Michael Lee mi sento di dire una roba un po' complicata parto da lontano come piace a Michele allora il punto è questo gli etruschi esatto ero a Los Angeles ero a Los Angeles e stavo vedendo una mostra di John Singer Sargent che è un mostro ok mamma sottissima della pittura americana ora lui era famoso no? per questi ritratti alla prima pazzeschi no? e la cosa incredibile è che quando tu entri in una stanza e vedi un quadro di Sargent e taglia no? diciamo entri in queste ero a LAC ma l'ho visto mi pare erano sale grosse non so 15 metri ok enormi e da una parte all'altra della sala vedi questi quadri che sono più veri del vero no? sai il realismo quello proprio la pittura del vero quella proprio vera ok perfetto quando ti avvicini a questi quadri ti accorgi che in realtà non capisci più niente perché la bravura di Sargent era quella di rappresentare con un solo segno di pennello no? forma colore materiale luce tutto no? e passava magari con la stessa pennellata stava disegnando un dito di una tipa che poi diventa un nastro di raso sulla gonna ok? stesso segno stessa pennellata ok? ora io quando ho visto quella roba lì ho capito Michael e la cosa pazzesca è che Michael è uno che tu dici no i fumetti di Michael li riconosci da un chilometro tutti rossi con i personaggi sempre quelli lì poi se li vedi bene i disegni di Michael non ce n'è uno uguale all'altro non uno e la cosa pazzesca è che con un singolo segno lui è in grado di rendere la recitazione la drammaticità la condizione umana cioè lui invece di trasferire con un singolo segno diciamo la natura visiva degli oggetti è in grado di trasferirti in interiorità e questa cosa qua per me rende Michael il più grande pittore mai vissuto nel mondo del fumetto italiano un po' come se avessi detto che la realtà da vicino è uno scarabocchio sì sono stato grande sì forse sì beh lo diceva Nietzsche diceva che se tu vedi una cosa più ti avvicini a conoscerla più non capisci più niente quindi volevo dirvi due cose la prima è giustificarmi di aver chiamato Sargent un illustratore perché io ho visto un suo quadro alla Society of Illustrators di New York quindi ho fatto un cortocircuito strano ed era accanto dei Rockwell e ci sono delle analogie che potremmo un giorno in privé discutere con Lorenzo e poi invece ogni tanto c'è sta cosa che mi parte la linea mentre state dicendo una cosa interessantissima e io quando si ributta tutto faccio sì con la testa perché così capite che comunque vi stavo seguendo ma mi sento come se fosse Forrest Gump che dice le cose sul Vietnam gli tolgono il microfono e alla fine questo è tutto quello che ho da dire sulla guerra e quindi continuo a pensare che mi sto perdendo la parte migliore ora faccio io una domanda prima di sparfallare di nuovo ed è come descrivereste lo stile con cui disegnavate quando da ragazzini avete cominciato a disegnare cioè fate coming out cosa copiavate brutalmente o a che cosa somigliavate che conoscevate voglio leggere un commento di uno che ha detto se hai rubato una flanda di uno shuttle il cristiano non l'ho rubata me l'hanno regalata me l'ha regalata quello che ce l'ha messa sopra lo shuttle che l'ha presata oratore vabbè Michael non voleva rispondere a questa domanda evidentemente no le solleviamo dal Lorenzo tu a cosa somigliavi quando hai cominciato a cosa somigliavo dunque probabilmente facevo quella cosa che fanno i bambini ovvero Picasso cioè che se tu gli dici disegna la cena che si sta svolgendo disegnano prima il sotto del tavolo poi il sopra del tavolo poi le persone stese accanto per farti vedere per lungo facevo quella roba lì quindi in realtà avevo un diciamo quell'immediatezza che poi la tecnica in qualche modo un po' ti ruba e ovviamente poi è una guerra costante cercare di recuperare quel tipo di immediatezza lì ovviamente sogno di avere quel tipo di efficacia e di riuscire a portarmi dentro pure le cose un po' più complesse che adesso mi sono preso la briga di voler raccontare quindi comunque eri già un filosofo del disegno pure da piccolo sì nel senso però proprio di non so che ero quelle situazioni in cui sei talmente puro e semplice che non puoi sbagliare però una cosa mi piace di questo racconto non voglio fare né Marzullo né quello che cerca un senso a tutto però per esempio quando tu e io parliamo del progetto di cui stiamo parlando in un dato momento ci è capitato sia per Golem che ora con Geist Machine tu hai dei momenti in cui dici ora ho capito una cosa che mi serviva perché tu sei come autore sei un problem solver cioè hai dei momenti in cui può sembrare che tu non stia procedendo in termini di tavole finite perché stai risolvendo qualcosa che è macro architettura di quello che farai infatti proprio parlavo con Caterina nello schedulare i tuoi lavori e ho detto mi sono speso per te e ho detto il secondo volume richiederà sicuramente meno pensiero del primo perché lo so perché Lorenzo ha dovuto risolvere delle cose che vanno per tutta la trilogia è proprio un lavoro preliminare non come quando in animazione ricicli gli sfondi o le pose proprio il pensiero dietro quindi pure il bambino cubista che eri stava comunque risolvendo dei problemi c'era lo stesso approccio da artigiano c'è una cosa come la faccio però se c'è una cosa che io invidio molto Alessandro Baronciani è proprio il fatto che ad esempio per dire io non lo so mai come disegnero cioè Alessandro secondo me è fantastico proprio perché ha trovato un segno con cui riesce a descrivere tutto io invece ho proprio il problema del fatto che è vero che tu vedi la fase del problem solving ma è perché c'è un problem posing io parto ogni volta fuori casa che non so fare niente e mi devo reinventare ogni volta a modo è vera la cosa di Alessandro comunque lui ha quella cosa che hanno i disegnatori più simbolici cioè per esempio se Giorgio Cavazzano vuole farti la battuta ecco appunto guarda come si è semplificato se vuole farti la battuta che qualcuno anziché il cellulare ha portato all'orecchio una saponetta altera leggermente la curvatura di una linea e tu sai che è una saponetta non deve fargli le bolle non deve farci battute è qualcosa che anche Alessandro che ha uno sguardo superficiale sembra veramente avere dei personaggi fatti da blocchi xilografici che non cambia da vent'anni perché si somigliano nel loro appartenere al loro creatore in realtà risolve tantissime cose con strumenti molto semplici quindi farò un collegamento Alessandro Baronciani è più simile a Palla Rossa e Palla Blu che agli scarabocchi proprio lui però cioè nel senso come ma io ragionavo tantissimo su questa cosa del disegno e della realtà di rappresentazione perché comunque adesso è anche meno divertente disegnare un albero perché se tu pensi a un albero come schema hai un modo per disegnarlo anche senza matita no Lawrence se devi disegnare un albero senza matita con un pennello quindi o la va o la spacca o anche Michael c'è un modo di rappresentazione questo è dato dal fatto che è un po' anche quello che dico quando ho insegnato gli studenti che gli studenti non sanno alle volte come fare una cosa perché non hanno ancora mai non hanno fatto ancora la library e la library è una cosa mentale che c'hai tu ed è un posto enorme dove tu hai per qualsiasi cosa un modo per rappresentarla tu sai che il cavallo visto da davanti non lo sai fare e quindi troverai sempre un modo di tre quarti di disegnare il cavallo che sai disegnare questo concetto di library è una cosa molto forte e anche ingombrante perché spesso poi quando la library nel 3D non so chi chi lo mastica però è importantissimo ci sono persone in giro per il mondo che disegnano la panda fanno il progetto poi lo mettono online lo puoi scaricare anche gratuitamente tu sai fare una panda la prendi la modifichi gli metti le ruote da trattore perché esiste già qualcuno che ha modellato in 3D l'oggetto che ti interessava è più o meno nella nostra testa c'è una specie di blogosfera di internet dove qualcuno sta elaborando per te degli oggetti che tu dovrai disegnare quindi l'albero è un modo tuo però questo Lorenzo non lo fa mai è proprio quella la cifra sua che non non parte mai da una lare può essere riconoscibile nel tempo però è veramente ogni volta lui si si separa dal suo dal suo campo semantico e se ne fugge si fa dei sgambetti ogni volta e lo riconosci proprio perché ogni volta è diverso però Lorenz è riconoscibile però Lorenz è riconoscibile nel senso che sai che è lui sai che ha fatto quello matto che gli fa tutto da capo sempre è un caso di artigianato estremo arriviamo a una soluzione Lorenz è decifrabile soltanto alla terza volta che Lorenz riesegue lo stesso disegno alla terza volta che gli fa lo stesso disegno Lorenz riesce a mettere la sua cifra dentro a Michael e Mirko gli basta una volta beh la vostra visione della realtà comunque è fortissima voi siete iper iconici tutti cioè con una forse Lorenzo ha la differenza che se lui vuole ingannarti e farti credere che qualcun altro disegna una tavola come qualcun altro perché ha digerito tantissime cose e ah sì cioè no no Lorenz perché non fai il mio libro prossimo che non so voi no un po' perso visto che lo faresti molto meglio tu mio zio ragazzi quanti complimenti questa sera così in punta di fioretto non ero pronto a questa cosa è veramente la parte anziana della serata siamo tutti gentili sembra un pochino una puntata di Maurizio Costanzo avete presente quella con finale la carriera esatto quella puntata quella puntata che si vede su youtube dove c'è lui o Lavanoni che parlano del jazz che sono sediti fuori in un bar e non si capisce cosa stanno dicendo di loro è stupendo cioè che non riescono a parlare in realtà è bellissimo è bellissimo una grande incommunicabilità esatto un grande tema affrontato da Antonioni negli anni 70 no ma grazie rendiamo rendiamo affettibile ai giovani questo segmento proprio perché Kate fai una domanda no ma devono ancora rispondere alla tua è vero perché Lorenzo l'ha detto invece Michael come disegnava da ragazzino io ho iniziato ho fatto come soldino ho iniziato a disegnare come ho iniziato a ragionare cercando di essere di copiare gli altri sempre e quello che ho sempre fatto ho cominciato chiaramente sono andato come lettore Marvel e volevo disegnare l'uomo ragno volevo disegnare Hulk ma ho iniziato proprio copiando ma così anche nelle relazioni umane è sempre stato così ho cercato di copiare le relazioni che vedevo che funzionavano in giro cercavo di essere come gli altri e come nella vita ho poi scoperto che quando banalmente quando cerchi di essere te stesso nel senso quando ho abbandonato quello che era faticoso per me fare in virtù di quello che mi era facile fare mi è successo sia nel disegno che nella vita questa cosa qua e quello mi ha mi ha cambiato il modo di segnare però ho iniziato per imitazione come i bambini che crescono copiando quello che mi interessava però è un parallelo strano perché nel disegno tanto che nella vita il disegno ha un percorso parallelo sempre teso a semplificare sempre maggiormente e a trarre più frutti cioè trovavo un albero colmo di frutti un altro che è bruciato quello bruciato ho smesso di calcolarlo e raccoglievo i frutti e basta è molto semplice andare avanti così è complicato perché poi smetti anche un po' di essere padrone sia del segno che di quello che racconti che quando racconto sempre che i personaggi mi hanno preso il sopravvento su quello che faccio non è una stupidaggine cioè non è una piageria è esattamente così se una cosa mi riesce difficile cerco cioè ho proprio tolto solamente i paletti questa cosa una marea di paletti quando cominciò a disegnare volevo proprio ero sono un fan penso che tutti gli autori sono fan sono lettori gli autori bravi sono tutti ex lettori ex lettori bravi lettori bravi è una bella definizione allora intanto hai dimostrato quello che dicevo prima che carburi come se fossi infastidito di essere parte di un dibattito poi dici le cose più fighe perché è così e poi ti ho pensato è bellissimo questi frozen non fallo a sentire a disagio questo è frozen davvero comunque quando prima parlavo tra l'altro vi devo dire un mio superpotere io sono molto serio quando parlo in pubblico ma se mi fanno una foto mi fermano sempre così quindi immagino che succeda quando mi salta l'immagine in ogni caso quando ho parlato con Daniel Flavia Teresa e Stefano ho chiesto proprio se sia successo a un certo punto che quando un personaggio sviluppa una personalità che va al di là del bisogno di dargliela per una trama se sia successo che il personaggio si sia non quella frase il personaggio si è scritto da solo è un po' una cazzata perché c'è sempre l'autore dietro però delle volte il personaggio diventa così convincente agli occhi dell'autore che l'autore cambia un po' i programmi perché si rende conto che quel personaggio ora lo conosce così bene che non farebbe mai delle cose o farebbe diversamente delle cose che aveva previsto nella trama della storia e stavo pensando proprio a te quando dici che non sei più il padrone degli scarabocchi anzi probabilmente sono loro che nella realtà reale disegnano te in questo mondo strano e matto in cui viviamo e tendo a crederci se non fosse per loro non sarei qua ecco sì Baronciani mi è venuta la labirintite tieni fermo quello schermo per favore sono io che mi muovo lo schermo sta fermo no no non sei tu è Alessandro che si muove di là è stato il padrone però per la fotografia di un modo che volevo spiegare è per spiegare come disegno disegno in maniera molto minimale anche quando faccio anche i miei fumetti quelli più erzigovolati più barocchi sono comunque il minimale di un altro autore la domanda che mi fanno sempre è ma come fai a rappresentare così tanto la realtà con così poche parole e così pochi segni io penso sia una forma mentis banalmente perché a me invece all'inverso mi viene da dire quando vedo autori ipertecnici che raccontano in maniera e dico come mai come fanno a aver bisogno di tanti segni e tante parole per spiegare una cosa che a me mi appare semplicissima però tra questi autori ci sono tre miei preferiti io adoro gli autori complicati il disegno però è una cosa che è un modo di schiacciare la realtà per esempio capita non so se vi è capitato mai di vedere una foto uno ti fa una foto e tu non sembri tu o ti fa una foto un amico mio ma chi è questo questo è Piero ma non riconosco e cavolo la foto è proprio il cane fedele il cane da riporto della realtà è quello che riporta quello che è però in effetti forse non ha colto quella cosa che era lì sotto i occhi non ha riportato il disegno il disegno per me è riportare quella cosa io non ho mai avuto anche quando copiavo cioè volevo arrivare a un certo tipo di disegno non ho mai avuto anche tra le mie letture non ho mai adorato chi riportava veramente la realtà o meglio la realtà in maniera fedele il disegno c'è anche la fotografia un modo di schiacciare la realtà figuriamoci il disegno il disegno è un modo che abbiamo noi per non mai faccio dei ritratti a mia figlia da giorni non ho mai avuto la pretesa di fare un disegno che assomigasse a mia figlia al massimo la somma di tutti questi ritratti può dare un'idea di quella che sarà quella che può essere mia figlia la realtà secondo me non va nemmeno corteggiata va proprio illusa e disillusa perché è l'unico potere che abbiamo nell'immaginifico nel disegno e anche disegnatori ipertecnici come Lorenzo che disegnano ti possono rimandare quella luce di quel cielo di quel momento di quella cosa di quel passaggio lì poi in realtà non lo fanno mai se fanno un val disegno non lo fanno mai è sempre una truffa se non truffiamo è il nostro modo è bravo Lorenzo più smart di creare se posso dire una cosa riguardo mi sono preso una mattinata a Tokyo per andare a disegnare i vicoli di Shimokitazawa ed è l'unica volta che ho disegnato dal vivo in vita mia e basta non ho mai disegnato col soggetto davanti mi ricordo le foto che hai postato in quell'occasione ho molto invidiato i posti perché li stavi disegnando tu e tra l'altro ogni tanto capita di vedere dei grovigli di fili elettrici e di pensarti per questo da allora ce lo diciamo ogni tanto se tu li vai a vedere rispetto alla foto basta togliere un bidone spostarlo da un millimetro e c'è la città di Lorenzo quello è il disegno dal vivo bastato schiacciare da un millimetro la casa o allargarla o vederla in realtà quando la disegni anche dal vivo da notte scegli tu il punto di vista in quel momento la stai disegnando quindi già stai agendo su quello che tu vedi stai imponendo il tuo punto di vista però lui basta che come tutte le persone che hanno un'intelligenza ma poi non la chiamerei intelligenza penso che non ci sia un altro modo di relazionarsi perché sennò ci annoieremo staremo qua a riprendere quello che già si è visto e penso che anche i disegnatori quelli più tecnici e più vicini alla realtà fuggono l'idea di rivedere quello che hanno già visto al massimo di evocare quello che hanno provato quello sicuramente ma di rivedere quello che non ho già visto le cose sono più belle nei ricordi sempre qualunque cosa tu fai è figa sì ma quando te la ricordi è mille volte più figa e quello è il disegno io mi ricordo la prima volta che ho visto l'iPhone di Lorenz improvvisamente è il 2007 non l'avevo mai visto no prima prima però io posso capire io per anni ho creduto che Lucca fosse costruita su tre dischi concentrici di pietra che ruotavano casualmente mentre eri a cena e per cui tu dicevi quando sono entrato in pizzeria venivo da destra e c'era la piazza esci e quindi vai a sinistra perché stai uscendo non c'è più la piazza per cui per anni ho creduto che si ricombinasse in una cosa tipo gira la moda e portava in un altro posto è l'overlook hotel girato come un calzino tipo beh la risposta a tutto questo è fin lungo basta che tu prendi fin lungo che praticamente il giro alla moda era la cosa che partiva dal centro e usciva fuori da un altro e si girava fin lungo è fin lungo che gira la moda fin lungo però vi giuro e poi smettiamo di parlare di queste cose nostalgiche che una volta uno dei primi anni di Bao l'anno in cui fu ospite Jeff Smith lo invitarono alla cena di gala che non è una cena della fiera è una cena dei notabili della città gente che noi non vediamo mai i veri potenti della città in un ristorante appena fuori via Fillungo dove nessuno di noi è mai stato perché credo sia dei riformi sì sembra un club privato massonico e tipo io mi ricordo che tutte le signore erano tra i 75 e gli 80 vestiti di colore pastello come la regina madre e ci guardavano come dire credo che ogni anno dicano portateci i più presentabili e io andai come accompagnatore perché facevo da traduttore a Jeff in questa situazione non fu spiacevole ma fu completamente rimossa dalla realtà cioè era veramente l'overlook hotel cioè giri nel corridoio dove non vai di solito e c'è una festa da ballo poi scopri che erano tutti morti o te la stai sognando perché vi giuro che quella sera io andai dicendo accompagno Jeff c'era posto solo per me non si poteva portare una persona in più sì no ma per questa premessa io Cate pensavo sto per godere di una cosa fichissima sto per entrare nel Sancta Sanctorum invece era gente che non aveva mai sentito parlare di fumetti e che una volta all'anno cenava per buona grazia con gli altri più illustri e io vi giuro che voi sapete bene com'è l'atmosfera della fiera non era né l'atmosfera della fiera né l'atmosfera della città era un'altra dimensione quindi la mia teoria Frozen dai dai secondo me non è completamente campata in aria prossima Luca andiamo ogni volta che se dico una cazzata i poteri forti mi bloccano voglio che sappiate che ho suggerito nel primo blocco di questa serata che male che vada se perdurano i problemi sanitari visto che Bao fa un tema differente per ogni stand il tema sarà Walter White fa la metanfetamina e quindi avremo tutti delle tute corporee gialle e daremo dei gadget di caramelle azzurre sigillate così sembreremo pronti e in realtà ci staremo solo proteggendo da tutto il problema è che l'effetto sarà lo stesso perché dopo una giornata Luca stai respirando le ascelle di 40.000 persone ma se respiri le tue dopo 12 ore probabilmente il problema è lo stesso perché stavo devo dire io da dove ho iniziato non mi ricordo ah ok allora io devo dire la verità io ne ho visti i primi fumetti di Barongiani ma i primissimi fumetti no quindi parli con un testimone ok e devo dire che in realtà ed è una delle cose per cui appunto prima facevo la cosa della libreria perché l'ho rimessa su in piedi adesso ed è una cosa molto bella avere i libri a casa soprattutto dopo la pandemia avere tanti libri che poi non hai mai letto è una cosa fantastica o che hai letto una volta sola è fantastico perché li puoi rileggere tutti ed è una cosa un po' diversa dal cercare una cosa che non hai da ricercare la cosa che hai già e io quando ero piccolo adesso so ho tanti fumetti rilego tanti fumetti da piccolo avevo Asterix avevo quei volumi lì di Asterix che poi vengono da mio fratello per cui io ho iniziato a leggere grazie ai fumetti non sapevo leggere guardavo le figure poi ho imparato a leggere i balloon più grandi poi quelli più piccoli fino a poi a leggere le storie adesso sto leggendo Asterix da quando da quando ho dieci anni l'ultima volta l'ho rilegto soltanto guardando le storie di Idefix e quindi li apro gli sfogli e guardo solo Idefix cosa fa perché anche Idefix fa delle storie completamente diverse dalla narrativa di quello che si racconta nel numero però non l'ho mai disegnato Asterix figuratevi quando ho scoperto che mio nonno in cantina teneva 200 Zagor e 50 Mr. No io quell'estate non andai al mare perché li volevo leggere tutti e Zagor come già avevo capito che forse avevo dei problemi perché Zagor avevo iniziato solo dagli ultimi mi piaceva le storie che poi tra l'altro avevo scoperto che aveva scritto Esclavi che era uno dei nemici lo scienziato pazzo come si chiama c'è qualcuno che magari lo può dire era Hellinger una cosa del genere un nome tipo birra tedesca che costa poco al supermercato quindi per me l'inizio io non copiavo tutto ma copiavo quello che mi davano in modo compulsivo tipo mio zio che ci teneva tantissimo al fatto che io disegnassi mi aveva comprato anche un manuale del fumetto che è una cosa stronzissima perché già lo pubblicavano all'epoca e la metà delle cose che c'erano dentro non erano più in produzione tipo chine pennelli oppure erano introvabili andavi in cartoleria e chiedevi oppure dei rotering a punta 0,5 che già non si trovavano poi erano delle cose complesse pennini punte cioè per dirti adesso i pennelli della Pentel si riescono a trovare abbastanza bene anche qua a Pesaro altrimenti li dovevi comprare su Amazon io certe cose le ho scoperte soltanto andando a Milano dovevi comprare su Amazon di che anno stiamo parlando scusa io certe cose le ho scoperte soltanto quando sono andato a Milano che esistevano i Pentel se no facevi tutto quel pennello con le pive di tortora che poi le pive di tortora si spaccavano se non lavavi la china la china era solo quella della Pelican che poi bruciava tutti i pennelli che appena appena imbevi mi tiravi su e non esisteva più le setole corsi di disegno libri che mi arrivavano io ricopiavo tutto quello che c'era e poi avevo mettevo tutto in un archivio avevo una di quelle cartelle che si aprivano tipo Fisarmonica e infilavo dentro tutti i miei disegni quando l'ho riempito ho detto che non mi serviva per niente ho pensato esattamente che effettivamente copiare era una cosa necessaria perché hai bisogno come ha detto prima anche Michael di decifrare quella cosa che poi ti servirà come library poi ti passa anche un po' di periodo di tempo in cui non hai ben chiaro cosa vuoi fare con tutto questo disegnare io penso che per chi disegna non è mai chiaro il concetto del perché disegniamo c'è stato poco tempo fa quella cosa del Times era del Times vero o del Guardian quello che le professioni meno desiderate per fortuna non hanno detto i fumettisti e hanno detto gli artisti e quindi ci siamo cavati fuori presto perché pensa a Michael pensa a Lorenz decidevamo tutti e tre di fare gli artisti a questo lavoramento ci saremmo sentiti colpiti da questa cosa in realtà l'aver deciso strada facendo di fare fumetti che a detta del mio insegnante delle superiori di disegno animato era una cosa lui la dava per spacciata il fumetto non sarebbe mai diventato niente di di quello che era più di quello che era già cioè una cosa da edicola una cosa seriale senza pretese da tenere da tenere sopra il comodino bugiardato da molti anni esatto e infatti mi ricordo che quando andai io sono molto affezionato alla scuola del libro di Urbino quando spesso ci vado ci torno a provare anche gli insegnanti o anche a fare il giro perché penso che Urbino sia una città fantastica e mi ricordo il mio insegnante che mi guardò e mi disse chi l'avrebbe mai detto che i fumetti sarebbero diventati questo e questo vuol dire che nessuno ha idea di quello che fa ma se tu vuoi fare quella cosa prima o poi vedrai che ti andrà bene andrà andrà dove vuoi andare questo non vuol dire che si deve esaudire tutto però hai già chiaro che quello lì è una cosa che ti piace ed è sempre bello fare le cose che ci piacciono Katia come facciamo a fare ancora questo lavoro a questo punto cioè veramente ma io loro sono la risposta del perché facciamo ancora questo lavoro no questa è una cosa da cuoricini sono schiacciato tra le personalità artistiche in questo punto faccio una domanda e sparisco sono censurato che cacchio facciamo a fare ancora questo lavoro siamo schiacciati tra queste personalità artistiche per fortuna di solito li gestiamo uno alla volta se questi tre mi telefonano io implodo praticamente poi tu ho le chiamate quindi siamo a posto sì è vero però un personaggino per tutti è un personaggino per tutti portato per l'occasione questo l'ho portato per l'ore ok però ha due mani a sinistra mi piace non trovo più la mente ok e poi ho trovato questa cosa qui che secondo me ti farà impazzire perché questi qui non si vedono proprio più in giro guardali un po' e per chi sono questi? questi sono per Caterina per te Michael per questo ecco cosa l'è? vediamo se lo capisci Michael è il professore di Barronciani poi lo metti a dire dai vediamo se è Goldrake Vega esatto esatto è il maggiordomo di Vega lì non mi ricordo il nome però non c'ha più neanche la faccia perché da piccolo non usavo come un peda Ale ma c'è ancora quei coninghietti che si trasformavano in palline che ti piacevano un sacco un sacco di tempo eccolo attenzione io se dovessi dire a posteriori il tema di stasera me lo sono perso però va bene così sono molto contento gli Zobols sono bellissimi non piacciono a nessuno a me piacevano quello che mi hai regalato lo conserva ancora in ufficio come una reliquia poi quello lì non si trovavano più comunque è stato un bel flop penso che avranno tagliato qualche testa dopo aver costruito sti robin diciamo che non faranno una puntata di The Toys That Made Us su quei giocattoli credo molto probabilmente no poi vedete ecco una cosa poi lascio concludere Kate questo incontro mi è venuto in mente quella serie un attimo scusami vuoi girare per favore la telecamera Michael per far vedere a tutti il castello di Grayskull che mi hai fatto vedere quando ero venuto a trovarti a casa tua stai parlando con me? sì sì c'era il castello di Grayskull là sopra baraga dei due uno fresco siccome non so farlo però uno è restaurato dal grande artista Cifone con la patiera disegnata a mano preziosissimo e il nero è stato ridato vedi che è restaurato il nero è stato ridato a Pennarello ok quello è Castel del Monte e Castel del Rio sono due due passaggi dobbiamo ricordare a quelli che hanno finto di sapere di avere una reazione emotiva da casa a quel castello che il ponte elevatoio del castello si apriva con la spada di Imen esattamente questa cosa lo avevamo per scontato noi noi lo avevamo per scontato ma ho imparato Michael facendo l'editore non dare mai niente per scontato e di tutte le cose chiare è estremamente importante sai che il mio prof delle superiori non me l'ha fatto mai comprare il castello di scheleto abbiamo capito che il tuo prof delle superiori è un becille e i masters no e i fumetti non andranno mai oltre l'edicola cioè quest'uomo non chiedergli consigli di borsa voglio dire non mi sembra veramente il caso comunque quello che volevo dire è quando ho visto le puntate di The Toys That Made Us sulle grandi franchise dei giocattoli che uno può pensare che qualcuno abbia creato oddio con l'intento di sedurre elementi dei giovani utenti dei giovani che ci avrebbero giocato in realtà molto spesso si impara che certe cose sono nate praticamente quasi per caso tipo la proposta dell'ultimo momento prima di dover fare il pitch dei giocattoli di Natale di quell'anno quando l'azienda era in crisi l'artista che voleva fare i personaggi fantasy ma tutti gli altri gli avevano detto lascia perdere la più emblematica della scesa e declino è la storia di G.I. Joe per esempio legata anche al sentimento americano rispetto alle forze armate il cambiamento della loro natura quindi quello che avete raccontato voi questa sera in realtà è infinitamente più deliberato e studiato di gente che alla fine ha creato dei miti ma a volte doveva solo sfangare la consegna per quella stagione delle feste e non aveva idea di che cosa che cosa sarebbe successo nel mondo esterno voi create le vostre opere nel modo che compiace voi però avete un rapporto molto più diretto con le persone che ne fluiranno e per cui avete molta più consapevolezza Frozen stava dicendo consapevolezza è stato demonio ma rendo interessante ma non importa la smetto è stata la Hasbro che ti ha bloccato è stata la Hasbro lo so comunque devo dirti hanno girato hanno girato il trono nel castello di Grace questo è una botola ovviamente però a distruzione di questa è vero perché si guarda in questa serie si nota tantissimo come spesso vadano un po' per aria nel senso che non hanno un piano marketing preciso tu pensi che loro siano veramente il castello del male la forza oscura in realtà poi vanno a cazzo però per spezzare una lancia a questo sull'andare a cazzo cioè potrei dire potrei parlare citarti dell'esempio della tigre di E-Man come emblema della della catarsi creativa perché effettivamente la tigre di E-Man non è altro che la tigre di Big Jim pitturata verde e gialla la prendono il problema è che sento Lorenzo che sta per esplodere quindi lo sento proprio come? per raccontare per immaginare sta per aprirsi uno special di 14 ore no io mi sto trattenendo sono l'unissimo la cosa bella la sto proprio dando per scontato che non è non è no no non hai non hai la tigre dietro no però c'hai un Mac 2 non lo stimolare sui giocattoli se no diventa come quando alla fine di un video di YouTube appare una tab che dice se vuoi vederne un altro e c'è un all nighter con Lorenzo che va benissimo però 10 ore esatto io le guarderei guarda che io guardo Lorenzo che disegna tutta la mia giornata io non faccio io mi prometti una cosa Lorenzo che quando finisci Geist Machine volume 1 fai uno special su Twitch dove rifai il racconto sul rap romano che hai fatto a Lucca una notte eh sì diciamo con il rischio che poi però vengo ucciso no ti fai bippiamo le parti che non si possono trasmettere però è stato perché assolutamente tu sei incredibilmente poliedrico ma la tua la cosa strana è che io non amo le persone della cultura enciclopedica perché sembrano voler sempre avere qualcosa per ogni momento invece tu parti con una nonchalanza assurda è tutta roba che fa parte tu l'hai veramente metabolizzata non è che hai letto un articolo hai letto un libro ti sei ricordato un aneddoto sei bravo a triviare un tour suite ci tengo guarda ci tengo a dire una cosa a riguardo prima di tutto che non parlo se non vengo interpellato con veemenza nel senso perché lo so che è una tragedia se parlo quindi sto tutto sempre ok se non mi chiedi io non dico e un'altra cosa fondamentale è che sono profondamente insoddisfatto dei documentari che si trovano perché sono generalmente sbagliati e così approssimativi esatto quindi mi dici che la tigre di Big Jim non è la tigre di no no quello è vero quello è verissimo quello è verissimo assolutamente vero la cosa improbabile è che purtroppo poverino la tigre di la tigre di Big Jim non poteva essere cavalcata dai men perché i men era Big Jim no pigmeo pigmeo deforme la cosa bella è che spesso appunto quando disegni pensi delle cose le lasci lì alle volte servono dentro a una storia e poi stranamente queste cose come prima parlava anche Flavia Biondi del personaggio che deve avere per forza una retrospettiva molto più aperta c'è il problema anche di Radice Turcone che il personaggio o come quello diceva anche qui il personaggio deve essere a 360 gradi dovevo sapere anche il giorno della nascita in realtà mi piace più pensare che questi oggetti nascono tanto tempo fa in una storia e poi vengono ripresi un po' come quando Michael & Mirko ha iniziato gli scarabocchi che era un'autoproduzione che costava mille lire o cento lire o un euro non me lo ricordo 2000 lire perché siamo due quindi vi spartivate così la faccenda e certe cose nascono come la tigre di Big Jim per poi diventare qualcosa di più importante la cavalcatura di Iman dieci anni dopo in un'altra vita Alessandro allora tra un po' tu stai lavorando a uno strano oggetto editoriale autoprodotto nel quale è palese che c'è un unicorno voglio sapere dove l'hai rubato ma non adesso perché non abbiamo tempo perché è l'ora di carosello e poi monoscopio e buonanotte quindi Kate chiosa e chiudi io volevo ringraziare voi che siete stati qua a chiacchierare con noi questa sera volevo ringraziare il circolo dei lettori Pop Store Dani che ci ha aiutato a organizzare tutto questo e voi che ci avete seguito io non sono una grande chiusatrice quindi grazie spero di vedervi presto hanno trovato il nome del personaggino tutto blu i Dargos lo dice Emanuela Cicconelli grazie Emanuela Cicconelli grazie di questo contributo ragazzi è stato veramente un piacere è stato quasi commovente vedervi Devisu e non vedo l'ora francamente di poterlo fare con un po' meno di distanziamento sociale di avere una delle nostre serate in cui ci raccontiamo l'universo e facciamo tardi grazie di aver edabbato Ale dimostrando di essere il più giovane tra noi la distanza sociale di 300 km al momento in effetti buonanotte a tutti grazie ciao 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 ciao